Proseguiamo con eccellenza dell'anno Insurance. Questo premio va a Generali Italia. Per essere uno dei pilastri non solo in ambito assicurativo del nostro paese, in grado di incidere positivamente con i propri servizi e la propria leadership ispirata, quale modello da seguire durante l'emergenza Covid-19 e nella fase di ripartenza, sempre al fianco dei clienti, imprese, dipendenti e comunità. Buonasera Rianna Narni, Head of Marketing Generale Italia. Buonasera a voi. Buonasera Nardi, benvenuta naturalmente qui con noi. Un commento a caldo anche a lei. Beh, grazie mille. Grazie davvero. È un riconoscimento che voglio condividere con tutti i colleghi della rete e della direzione che in questo periodo non si sono mai fermati. Per averci riconosciuto questo premio, soprattutto in questo momento, è estremamente importante perché questo è frutto di un grandissimo lavoro di squadra. Non ci siamo mai fermati e abbiamo fatto di tutto per dare modo ai nostri clienti di continuare ad avere una importante esperienza con generali, con riferimento a tutte quelle che sono le protezioni per la salute, anzitutto il lavoro, il patrimonio, sia delle persone, sia delle imprese. Abbiamo continuato ad innovare anche in questo periodo e in particolare non ci siamo fermati sullo sviluppo delle iniziative modulari e importanti come immagina adesso che abbiamo aperto tra generali e i bisogni della famiglia e abbiamo continuato ad innovare anche nel modo di comunicare con la rete perché abbiamo lanciato la nostra web tv che ci ha consentito di rimanere connessi con più di 35.000 persone sul territorio in più di 10 puntate nel corso di queste settimane. Beh, ecco, io pensi che le stavo per chiedere che cosa significa essere un pilastro perché abbiamo sentito questa parola nella motivazione ma insomma lei in parte mi ha già risposto quindi avete continuato ad innovare e non vi siete mai fermati ecco che è un concetto che sembra quasi uno simbolo rispetto al periodo che abbiamo vissuto del lockdown però insomma ci siamo essi in altri modi, no? Sì, credo che fosse importante più che mai in questo momento dare l'esempio e abbiamo potuto contare su una rete davvero empatica, una rete di vendita davvero empatica che ci ha aiutato ad amplificare questo segnale verso i clienti e tutto quello che da adesso in poi faremo sarà ancora più forte grazie a questa esperienza. Va bene, ecco, questa diventa una vera e propria opportunità, no? Quello che abbiamo detto seppur si riconoscano poi anche le difficoltà, l'importante è andare oltre e non a caso insomma io rinnovo i miei complimenti a nome di tutte le fonti per questo riconoscimento e ringrazio lei, Arianna Nardi, Head of Marketing General Italia e naturalmente tutto il gruppo visto che l'ha giustamente citato. Soprattutto, soprattutto i colleghi della rete e della direzione, grazie a tutti. Assolutamente, grazie a voi e a presto e andiamo avanti con il prossimo premio.